Io adesso voglio sapere tutto di questo Maxi Morales, miei cari, ma c'è un esperto qui, Federico Buffa, perché innanzitutto sei proprio esperto di Maxi Morales? No, più che altro mi piace molto il football argentino, adesso non so che familiarità tu abbia col football argentino, però adesso... Molto più legata alle nazionali che non al campionato. Perfetto, ma già per portarti. Adesso, quali sono i soprannomi che si danno nel calcio italiano ai giocatori? Dai, pochi. Difficilmente c'è un soprannome di quelli che dicono, ma com'è che gli è venuto in mente questo... Erpupone, che ne so, dai. Secondo me quantità di fantasia usata poca. Il soprannome di Maxi Morales è il fracchito. E il fracchito sarebbe il barattolino di marmellata che la mamma dà al bambino la mattina colazione. Ma il fracchito, o al di là della struttura, perché... Il rumore del tappo che si muove sul fracchito è il rumore di quando calcia lui. Beh, dai, non puoi non innamorarti degli argentini. Una fantasia veramente sudamericana.